Sindaco sviluppi sul città di Teramo, nelle ultime ore i dirigenti che già c'erano si sono dimessi, è stato accolto di fatto Filippo Di Antonio che andrà poi a formare una nuova società. Sì, intanto voglio partire con un ringraziamento, mi sembra doveroso, per chi ha gestito dopo l'avvio che ho posto in essere nello scorso agosto del 2022, la nuova esperienza del città di Teramo facendo ripartire il calcio teramano con la vittoria del campionato, quindi Romolo, Eddie e tutti coloro che si sono messi a disposizione hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. E grazie ovviamente a Filippo Di Antonio per la volontà di investire sul calcio teramano, sulla città di Teramo e dare una nuova linfa e una nuova prospettiva ad un percorso che si apre ovviamente per il prossimo triennio. Diciamo che è stato un percorso guidato dall'amministrazione, come sapete subito dopo le elezioni mi sono adoperato affinché attraverso la Commissione, ringrazio il Presidente Gebbia e tutti i componenti, si accelerasse su una definizione di struttura societaria chiare, si uscisse magari da una fase di riflessione e discussione e si lavorasse per il futuro. Così è stato, abbiamo guidato questo percorso, ho preso atto della responsabilità e della voglia di investire e dell'entusiasmo di tutti e adesso quindi ci prepariamo a questa nuova stagione e ora supportiamo, continueremo a supportare per l'allargamento non solo e non tanto della base societaria ma anche di coloro che potranno dare un ulteriore supporto finanziario, economico, sportivo, di contenuto a questa bellissima esperienza. In tal senso oggi pomeriggio c'è un incontro con Confindustria, con il Presidente Lorenzo Dattoli proprio per valutare un ulteriore supporto. Sì, è un incontro che era stato già convocato prima, dopo la prima riunione che abbiamo avuto in comune e che oggi ovviamente prenderà atto e registrerà anche positivamente, credo, questa nuova situazione societaria. È importante che ci sia il coinvolgimento di tutti, l'appello a tutte le forze economiche del territorio, è un dovere delle istituzioni e oggi sicuramente si ragionerà su questa ulteriore opportunità. Lei auspica che i vecchi, tra virgolette, dirigenti possano rientrare? Ma certamente, insomma se c'è la loro volontà, senza ombre di dubbio, abbiamo lavorato bene nel corso di quest'anno, raggiungendo appunto in una condizione difficilissima l'obiettivo della promozione, tenuto conto che si era partiti tardissimo, si era partiti, io ho avviato la procedura ad agosto e quindi settembre inoltrato, quindi è giusto che loro abbiano un ruolo o è chiaro che poi dipende dalla loro volontà.